L'Italia dà il meglio di sé quando fa l'Italia, quando applica la sua capacità di produrre innovazione, bellezza, di incrociare i saperi alle sfide che abbiamo davanti. Una delle più importanti di queste sfide è proprio quella ambientale, della crisi climatica che passa per le fonti rinnovabili. Molte volte troppi ragionano ancora con le idee del passato, parlano di fonti di energia che bisogna superare. L'anno scorso nel mondo, già oggi, ce lo dice il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, l'85% delle nuove fonti di produzione di energia elettrica e dei nuovi impianti era alimentato da fonti rinnovabili. Il 15% tutto il resto. Questo 85% significa che le rinnovabili costano meno. È lì che bisogna puntare, lì che l'Italia può fare molto molto di più, perché eravamo all'avanguardia anni fa, adesso abbiamo perso terreno. Ci sono anni in cui l'Olanda ha installato il quadruplo del solare italiano e l'Olanda ha meno sole ed è più piccola. Molto avanti sono andati Germania, Spagna, Portogallo. Insomma, lì c'è la possibilità di avere un'energia che costa meno è pulita e abbatte le emissioni di CO2. Ecco, noi abbiamo raccolto 100 storie, 100 storie di imprese italiane grandi e piccole, di centri di ricerca, di istituzioni, di organizzazioni che sono protagoniste di questa sfida e sono quelle che ci possono aiutare a costruire un'economia che proprio perché è più a misura d'uomo è più capace di affrontare il futuro.